Previsioni Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2019, dalle news astrologiche tratte da Latte Miele ecco le indicazioni in amore, fortuna e successo del giorno. L'oroscopo oggi giovedì 9 maggio 2019 segnala una forte agitazione e stanchezza per la riete. Saturno in aspetto interessante assicura grande energia al Toro, necessaria soprattutto per approfittare di qualche occasione vantaggiosa nell'ambito lavorativo. C'è un calo per i gemelli, ma Paolo Fox ti anticipa già che sarà soprattutto durante le giornate di sabato e domenica che potrai contare su un buon recupero anche fisico. Nella seconda parte di maggio ci saranno novità interessanti in amore per il cancro. Ci sono spese che risalgono allo scorso anno, e che continuano a penalizzare il leone. Con Mercurio e Saturno in aspetto favorevole, questo è un periodo che porta grandi soddisfazioni alla Vergine. Bilancia risente di fastidi che ti hanno penalizzato già la scorsa settimana. La tensione che Scorpione vive in ambito lavorativo, potrebbe creare malumore anche in amore. Il Sagittario durante il fine settimana se c'è qualcosa da chiarire, potrai farlo in libertà. Possibili soluzioni d'amore in vista per la seconda parte di maggio per il Capricorno. Il transito di urano produce i suoi effetti anche sui nati acquario che si trovano ad affrontare cambiamenti anche importanti. Entro il 25 maggio i pesci possono ricucire uno strappo e vivere una situazione migliore. Oroscopo Paolo Fox oggi 9 maggio 2019. Clicca sul tuo segno per amore, fortuna e successo. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.